Si è conclusa la prima parte della diciassettesima edizione del premio Massimo Troisi, nell'incantevole cornice di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano, con oltre 600 persone presenti, la finale del premio che ha decretato ex equo i vincitori della rassegna tornata alla ribalta dopo 5 anni di assenza. Grazie all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Zinno e al sostegno del governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, si è portata a termine la prima fase di un progetto che è stato pensato per durare nel tempo. Infatti nei prossimi mesi si concretizzeranno altre idee che avranno come filo conduttore la comicità e la territorialità per lo sviluppo e la valorizzazione degli artisti partenopei. Finisce un primo pezzo del premio Massimo Troisi, inizierà nel mese di novembre-dicembre, la parte dedicata alla scrittura comica e quella del web film, quindi abbiamo ancora molto da poter dare a questa città rispetto al progetto culturale che abbiamo messo insieme a Paolo Cagliazzo, ringraziando ovviamente la regione Campania e i tanti sponsor che hanno creduto in questo progetto, ripartiamo. Ci saranno altre iniziative, soprattutto la sezione di scrittura comica e per finire la sezione cortometraggi, quest'anno ribattezzata web film e come i presidenti di giuria avremo Id Jackal. Quindi è un premio Massimo Troisi che dura un po' nel tempo, non sono soltanto pochi giorni, però stasera è una serata molto importante, vedo tante persone che sono qui ed è veramente complicata la macchina da gestire. Chi mi ha giocato a me?